Eccoci ad un nuovo appuntamento. Oggi torniamo a parlare di abusi. In passato ti ho spiegato come guarire dagli abusi subiti da un narcisista. Oggi voglio ampliare un po' più l'argomento e parlarti di come superare gli abusi e riprendere in mano la tua vita. Ciao se non mi conosci io sono Angelo. Sono uno psicologo ed uno psicoterapeuta. Aiuto le persone a migliorare la propria autostima, le proprie relazioni interpersonali e ad affrontare in maniera più salutare i problemi quotidiani. A questo scopo ho aperto questo canale. Qui ti parlo di psicologia, autostima, di crescita personale. Se ti interessano questi argomenti iscriviti subito al canale. E mi raccomando non dimenticare di cliccare sulla campanellina delle notifiche per essere aggiornato ad ogni nuovo video. Oggi come ti ho detto torniamo a parlare di abusi. In video passati ti ho spiegato come superare gli abusi narcisistici. Il link a quel video lo puoi trovare giù in descrizione insieme a tanti altri video utilissimi per affrontare i momenti critici. Quando parliamo di abusi la prima cosa che ci viene in mente è l'abuso sessuale. In verità gli abusi hanno tantissime sfaccettature quante sono i tipi di violenza. Quando una persona subisce un abuso vive dentro di sé una frattura. Subisce una frattura nella psiche e nell'idea che ha di se stesso. Molto spesso le persone vittime di aggressioni, di violenze cominciano a credere di non valere, di non essere abbastanza, di non essere persone di valore. Come puoi immaginare queste convinzioni vanno ad influenzare tutti gli ambiti della vita. Queste convinzioni profonde possono portare la persona abusata a soffrire di ansia, di depressione, ad avere paura dei rapporti interpersonali. Questa profonda convinzione di non valere, di non essere degni può portare la persona anche a non aspirare a migliorare la propria vita. Può portare la persona ad accontentarsi delle situazioni anche se generano sofferenza. Un pensiero mi viene nei confronti delle donne che continuano a subire violenza e abusi e nonostante la sofferenza che provano hanno difficoltà a sganciarsi da quella dinamica tossica. Le violenze e gli abusi possono creare una ferita così profonda da portare la persona a credere di non meritare amore o non meritare una vita felice. Quello che voglio fare oggi con te è spronarti, se hai subito un abuso, se hai subito una violenza, a riprendere in mano la tua vita. È bene però fare una piccola premessa. Se hai subito una violenza o un abuso chiedi un aiuto professionale. Qui ti darò dei suggerimenti ma è fondamentale che tu lavori su te stesso per rimaginare quelle ferite e per riscoprire il tuo valore. Il processo di guarigione da un abuso o da una violenza è un percorso lungo e doloroso ed è fondamentale che tu lo faccia con l'aiuto di qualcuno. Ma cominciamo col presentarti i miei consigli. Il primo consiglio che voglio darti è quello di prendere consapevolezza delle tue emozioni. Le persone che hanno subito una violenza, un abuso tendono ad anestetizzarsi rispetto alle emozioni. La violenza, il dolore per quello che hanno subito crea in loro una sorta di schermo che però le anestetizza sia delle emozioni negative sia dalle emozioni positive. Si vive in una sorta di bolla dove tutte le emozioni sono anestetizzate. Questo comportamento se da un lato può sembrare utile dall'altro però crea tantissime altre difficoltà specialmente nei rapporti interpersonali. Se vuoi liberarti del dolore che provi è fondamentale che tu riconosca queste emozioni. Attraverso il riconoscimento, attraverso la consapevolezza delle emozioni che provi potrai liberartene. Potresti provare rabbia, tristezza, momenti di pianto, a volte disperazione ma è importante accogliere queste emozioni per poi lasciarle andare. Questo processo ti libererà da quel carico di emozioni negative che anche se non vuoi sono presenti sulle tue spalle. Dopo questo processo di riconoscimento e accettazione delle emozioni negative comincia a coltivare amore e comprensione verso te stesso e i suggerimenti successivi hanno proprio questo scopo. Il secondo suggerimento è quello di ascoltare il tuo dialogo interiore. In precedenti video ti ho spiegato che cos'è il dialogo interiore e di come questo influenzi i disturbi psicologici. Il dialogo interiore è quel monologo che noi abbiamo dentro noi stessi con noi stessi. La persona che ha subito una violenza, un abuso tende ad avere un dialogo interiore caratterizzato da una forte autocritica, da una forte autosvalutazione. Se vuoi superare la difficoltà cerca di osservare il tuo dialogo interiore. Cerca di capire se ci sono momenti nei quali ti critichi eccessivamente e sostituisci quelle parole critiche, quelle parole severe con parole più accoglienti, con frasi di amore, con frasi di accettazione verso te stesso. Se il dialogo interiore tende a sminuire il tuo valore riconoscilo e sostituiscilo con un parlare più amorevole e accettante verso te stesso. In un mio articolo sul mio blog ho parlato del potere dei pensieri. Se vuoi approfondire quell'argomento ti lascio il link giù in descrizione. Un altro suggerimento che voglio condividere con te è quello di ridefinire le tue responsabilità. Ho lavorato con diverse persone che hanno subito violenza e abusi e un tratto caratteristico è che tendevano a darsi eccessiva responsabilità sull'accaduto. Credevano che tutto quello che era accaduto fosse una loro responsabilità. E' importante invece ridefinire il giusto confine tra ciò che è una tua responsabilità e ciò che non lo era. Quello che è accaduto se hai subito violenza non era sotto il tuo controllo. Tu non potevi e non puoi agire direttamente sui pensieri, sulle emozioni e sui comportamenti altrui. Molto spesso le persone che si assumono eccessive responsabilità tendono a fare questo lavoro. Credono che le reazioni degli altri siano dovute ai propri comportamenti, dimenticando però che ognuno di noi elabora le informazioni, le interpreta secondo il proprio modo di pensare, secondo la propria visione. E' fondamentale che tu faccia questo lavoro anche su di te e su quello che è accaduto. Riconosci quello che era direttamente sotto il tuo controllo, quindi le tue emozioni, le tue parole, i tuoi pensieri e quello che invece non era sotto il tuo controllo, sotto la tua influenza diretta, cioè i pensieri, le emozioni e i comportamenti altrui. La persona che si è comportata in maniera aggressiva lo ha fatto perché quello era il suo modo di comportarsi e non è una tua responsabilità. Prima di andare avanti ricordati di creare il giusto confine tra ciò che è sotto la tua responsabilità e ciò che non lo è. Questo è fondamentale per evitare di continuare a perseverare l'idea che la colpa è totalmente tua e che sei tu che hai sbagliato. Un'altra strategia che voglio consigliarti è quello di essere grato a te stesso. In passato ti ho parlato dei benefici della gratitudine e di come migliorare il senso di riconoscenza verso gli altri, verso l'esterno. Fai questo lavoro anche verso te stesso. Soffermati a riconoscere e a ricordare i tuoi successi. Sii grato a te stesso per tutto quello che hai fatto, per come ti comporti, sia per i successi presenti che per quelli passati. Riconosci a te stesso il tuo valore. Se vuoi ritrovare il tuo valore è fondamentale che sia tu stesso a riconoscerlo. Un altro suggerimento che voglio darti è quello di affermare il tuo diritto all'amore. Le persone che hanno subito violenza, come ti ho detto precedentemente, possono arrivare a credere di non meritare amore, di essere persone indegne che non hanno nessun diritto. Questo atteggiamento le può portare però ad incastrarsi in altre situazioni tossiche, fonte di ulteriore sofferenza. È importante che tu riconosca che hai valore e che hai il diritto alla felicità e ad una relazione sana. Se vuoi riscoprire il tuo valore puoi utilizzare gli esercizi precedenti e anche le affermazioni positive. Durante la giornata ripeti a te stesso io mi amo, merito di essere amato, ho il diritto all'amore, io mi amo e mi accetto così come sono. All'inizio la ripetizione di queste frasi potrà sembrarti assurda qualcosa di distante ma col tempo noterai le cose cambiare, col tempo sentirai i germogli della pianta dell'amore verso te stessi crescere. L'ultimo suggerimento che voglio darti è quello di sognare. Le persone che hanno subito una violenza o un abuso tendono a rimanere incastrati negli eventi passati. Attraverso il rimuginio, attraverso i ricordi tendono a rivivere continuamente quell'esperienza nella speranza di evitare che si ripresenti o di capire in che cosa hanno sbagliato. Quello che io ti consiglio di fare invece è di riconoscere il tuo valore, di riconoscere che hai meriti di essere amato e di guardare al futuro con maggiore speranza. Liberati dalle catene del passato e guarda il tuo futuro. Comincia a sognare la relazione che desideri, comincia a sognare il lavoro che tu vuoi veramente, comincia a sognare come esprimere pienamente il tuo valore. Attraverso i sogni pian piano riuscirai a realizzare la vita che vuoi. Spero che questi piccoli suggerimenti ti possono aiutare a guarire almeno in parte le sofferenze causate dagli abusi o dalle violenze. Quello che ti consiglio sempre è di chiedere aiuto ad un professionista se pensi che una violenza abbia intaccato in profondo la tua identità. Per qualunque altra cosa, se hai delle domande, dei dubbi, puoi scrivermi nei commenti e come sempre mi puoi trovare su Facebook e Instagram e noi ci vediamo nel prossimo video.